Tre persone denunciate e sanzioni elevate fino a 110.000 euro e il bilancio di una serie di controlli effettuati per il contrasto al lavoro sommerso dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro e del nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Calabria. Oltre 20 le attività commerciali e produttive di Tauria Nova e dei comuni livitrofi sottoposte a controllo. In sei aziende sono stati riscontrati diversi lavoratori in nero, oltre a registrazioni irregolari sul libro unico del lavoro. Due dei dipendenti non regolari sono stati denunciati alla Procura di Palmi per truffe e violazioni inerenti l'obbligo di comunicare all'amministrazione eventuali variazioni occupazionali nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente in quanto percettori indebitamente del reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno anche denunciato il titolare di un'autocarrozzeria di Tauria Nova per inottemperanza alla normativa ambientale perché ritenuto responsabile dello stoccaggio di rifiuti in misura non consentita, tra i quali vernici e solventi esausti, nonché carcasse di autovettura non più funzionanti da svariati anni.